Avversari di Pogba e Mourinho in Roma Juventus, un rapporto complicato. Benvenuti nel canale. E se ami la Juventus e vuoi rimanere ben informato sulla Juve, iscriviti al canale e clicca il campanello in modo da non perderti nulla. Go al studio. Pogba e Mourinho, una relazione complicata. Vittorio Rotondaro. 05 Mar 2023 04 43-03-00. Pogba e Mourinho Manchester United Getty. Serie A. Roma vs Juventus. Roma. Juventus. P Pogba. José Mourinho. Più ombre che luci sul rapporto tra francese e portoghese, dal gol decisivo nella finale di Europa League alla rottura. Advertisement scroll per continuare con il contenuto. Il 24 maggio 2017 all'Unfriends Arena di Solna, il Manchester United ha vinto l'Europa League dopo aver battuto in finale l'Ajax, il primo gol di entrambe le vittorie firmato da Paul Pogba che, al triplo fischio, si lascia andare a una festa insieme a José Mourinho. Un momento nel suo percorso storico, poiché in netto contrasto con il quadro clinico di una relazione non è mai veramente decollato. Completamente un altro. I due si affronteranno questa sera allo Stadio Olimpico di Roma Juventus, il francese probabilmente partirà dalla panchina, mentre lo Special One sarà al suo posto per guidare i giallorossi grazie alla sospensione della squalifica, dopo le parole pronunciate dal Ministero Pubblico Federale nell'ambito della controversia con Marco Serra, quarto uomo di Cremone Roma. Un faccia a faccia che forse non è nulla rispetto ai due anni e mezzo trascorsi alla guida del Manchester United, all'epoca, Mourinho e Pogba avevano l'opportunità di lavorare insieme e, soprattutto, di far capire al mondo quanto fossero diversi. Il calciatore sociale è attento all'immagine da un lato, l'allenatore pragmatico e laborioso dall'altro. Minare seriamente la coesistenza è una discussione molto accesa che entrambi hanno avuto durante una partita contro il Tottenham nella stagione 2017-2018. Da allora in poi è tutta un'escalation di tensione, culminò nell'esclusione di Pogba dalla formazione di partenza nella prima fase dell'ottava Champions League a Siviglia. Vuoi avere notizie veloci ed esclusive su Juventus? Iscriviti al canale e clicca sulla campana per non perderti nulla.